ariete giornata un po folle che vi vuole intraprendenti e insofferenti alla routine ricercate emozioni originali che portino stimoli nuovi nel quotidiano ricavandone benefici per impostare nuovi programmi toro urano sta per entrare nel segno ed è un evento importante che potrebbe rivoluzionare un po la vostra vita una volta tanto le tradizioni vi stanno strette e potreste decidere di sorprendere tutti gemelli la bontà delle configurazioni astrali vi inclina al buon umore e alle questioni amorose a considerazioni e soluzioni piacevoli che influenzano positivamente anche il modo di vivere la vostra attività cancro la luna nemica potrebbe guastare le percezioni della giornata cercate di arginare il nervosismo perché avete dalla vostra parte la possibilità di tagliare un ramo secco e intraprendere nuove strade leone il cielo astrale muta le condizioni e può influenzare l'andamento della vostra vita con la necessità di scelte importanti di cambiamenti che arrivano anche improvvisi oggi siete in pieno accordo sentimentale vergine prosegue la fase di intense angolazioni planetarie che sollecitano uno o più aspetti della vostra vita arricchendovi con esperienze e novità ma portando anche un po di sovraccarico che vi affatica bilancia oggi la luna dissonante abbassa il tono dell'umore e suscita irritabilità ma dovete tenere presente che il vostro quadro astrale generale alleggerisce le disarmonie e si aprono momenti di riscossa e di conquista scorpione periodo instabile che vi vede alle prese con nuove soluzioni inerenti lavoro o vita personale è un buon momento per rivoluzionare qualcosa che non vi soddisfa più con ottime possibilità di successo sagittario qualche conflitto potrebbe inquinare la sfera sentimentale se un rapporto è difficoltoso meritente in modo profondo altrimenti basta un assestamento una attenzione in più per sistemare le questioni capricorno l'assetto astrale sta accrescendo la positività siete ben sostenuti nei vostri programmi ricevete conferme soddisfazioni soprattutto in ambito lavorativo mentre si profila una maturazione personale importante acquario rivolgete pensieri e attenzioni all'amore venere armonica e oggi anche la luna amica suscitano buone impressioni che rafforzano i sentimenti i rapporti con chi amate si intravede una fase più impegnativa pesci venere in aspetto dissonante può fare emergere qualche contrasto negli affetti nella vostra disponibilità però siete forti di un cielo astrale davvero benevolo che vi regala eventi e opportunità di buon livello buone stelle